buonasera buonasera sognatori buonasera esploratori eccoci di nuovo qui con un nuovo argomento aspetto un po di vedere qualcuno prima di partire ecco ci vedo già qualcuno bene allora questa sera parliamo di futuro sognare il futuro perché molti di voi mi hanno mi fanno spesso queste domande è possibile sognare il futuro ho sognato il futuro e domande di questo tipo quindi io rispondo subito ciao Antonella rispondo subito che sì noi sogniamo il futuro però ci sono delle differenze da fare delle precisazioni doverose perché il futuro noi lo sogniamo sempre nei sogni perché il sogno ci fa vedere il risultato delle nostre azioni di solito quindi ci fa vedere dove stiamo andando e che cosa stiamo facendo questo avviene attraverso la simbologia attraverso tutti i significati che noi riusciamo a tirare fuori dal nostro sogno e di cui solo noi capiamo bene l'entità e il significato questa è innegabile questo il sogno noi pensiamo voi mi direte cioè ma io sogno anche del passato sì il passato è necessario laddove il sogno ci fa vedere che stiamo ripetendo qualcosa oppure che rischiamo di fare qualcosa che andrà a finire come l'altra volta questa è una ci sono per chi già comincia ad avere dubbi ci sono certamente anche i sogni premonitori questo sì però volevo e dovevo specificare che il sogno è sempre finalizzato alla nostra evoluzione quindi ci fa vedere dove stiamo andando e ci mostra se vogliamo tutte le possibilità e le probabilità sulla base di ciò che noi facciamo pensiamo ciò di cui abbiamo paura ciò che è il nostro fermo e grande desiderio e quindi fa delle ipotesi con tutte queste nostre emozioni e con tutte le caratteristiche del nostro cammino e ci fa vedere appunto le possibilità tra le quali possiamo scegliere tutti avrete sognato che non riuscite a camminare non riuscite a parlare eccetera lì c'è per esempio da fare una scelta se voglio andare avanti se voglio conquistare un determinato obiettivo che può essere un lavoro un ragazzo un fidanzato eccetera eccetera il sogno mi fa vedere che c'è un problema di comunicazione quindi se io lo risolvo vado avanti il mio futuro dipende da questo questi sono gli esempi in cui che possiamo notare in tutti i nostri sogni perché a chi non è successo per carità non a tutti ma molto spesso ci ritroviamo in questi sogni dove siamo bloccati non riusciamo a parlare la porta non si apre eccetera eccetera tutta una serie di blocchi quindi buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti quindi questo è uno dei modi in cui il sogno ci prevede il futuro poi ci sono sogni più importanti che prevedono il futuro e sono sogni che hanno immagini forti che hanno uno spessore a livello emotivo che ci lascia colpiti ci lascia emozionati per tutta la giornata questi sono sogni un po' più significativi allora dobbiamo analizzare vedere verificare se si tratta di una premonizione o molto spesso della paura che si avveri qualcosa del genere per esempio se sono molto innamorato posso sognare non lo so che magari la mia fidanzata muore oddio morirà morirà probabilmente è solo una paura talmente sono innamorato di perderla e se la perdessi che cosa farei quindi bisogna cercare di fare un po' delle associazioni e pensare proprio pensare se abbiamo pensato questa cosa se ci è passato per la mente infatti come dico sempre è utile anche a questo scrivere tenere un diario dei sogni dove alla sera prima di andare a dormire ci annotiamo tutte queste cose le emozioni che abbiamo provato anche le paure le cose più importanti quindi non lo so ho incontrato una mia ex che non vedevo da dieci anni questo mi sembra significativo potrebbe uscire nel sogno per farci vedere qualcosa ecco che anche su questo genere su questo tipo di sogni possiamo avere una mano dal nostro diario quindi è molto molto importante quindi quando le persone mi chiedono ho sognato questo eccetera eccetera può essere un sogno premonitore succederà davvero quando c'è la domanda allora sicuramente non lo è perché quando un sogno è premonitore si presenta in un modo totalmente diverso si presenta nitido si presenta in modo molto chiaro e si presenta soprattutto come una visione quindi come quando abbiamo delle esperienze extrasensoriali la visione di angeli piuttosto che defunti dove la predominante è proprio l'emozione l'emozione molto molto forte non intendo paura per emozione molto forte per emozione molto forte intendo dire io so che è vero io l'ho visto sono certo che questa cosa accadrà sono certa di avere vissuto visto qualcosa che accadrà a breve accadrà presto questi sono sogni premonitori però questi sogni non sono effettivamente una magia o qualcosa che o qualche come si può dire potere che noi abbiamo tipo medianico eccetera eccetera semplicemente il fatto è che noi siamo abbiamo il nostro inconscio personale ma siamo anche come dimostra la fisica quantistica siamo tutti collegati e quindi siamo collegati anche all'inconscio di altre persone di altre esperienze possiamo dire esperienze ecco che possiamo avere accesso oppure è necessario richiesto l'accesso perché siamo la persona più indicata che può non lo so dipende dal sogno fare qualcosa può trovare beneficio da questa esperienza e da quello che crea nella sua vita eccetera eccetera i sogni a 360 gradi non solo i sogni premonitori sono ancora un mistero non sappiamo ancora perché sogniamo e a che cosa servono realmente le nostre sono tutte ipotesi non c'è certezza ancora nei sogni però è vero che esistono esistono i sogni premonitori che dicono cose che accadono io ho fatto un esempio molto spesso di di questa di quest'uomo questo camionista che sogna un bambino che gli dice devi tu domani troverai nella tal strada che percorrerai troverai una macchina di questo tipo all'interno ci sarà un uomo e un bambino tu gli devi dire che la deve smettere di piangere per la mia morte e occuparsi di mio fratello ovviamente questa persona ha detto ma figuriamoci è stato un brutto sogno eccetera eccetera ma lungo il suo percorso ecco la persona adatta perché faceva lo stesso percorso del padre di questo bambino la persona adatta si è trovata questa macchina davanti se non avesse avuto il sogno la premonizione sarebbe andato via dritto quindi ha visto questa macchina ha realizzato che la sua visione era reale ha fermato la macchina e ha detto questa cosa al padre del bambino il padre del bambino si è messo a piangere il camionista ha avuto la sua dose di emozione e diciamo che ha cambiato modo di vedere la vita in conseguenza di questo sogno quindi sì questo è lo scopo dei sogni premonitori non tutti ognuno ha la sua ragione di essere esistono comunque c'è un altro tipo di sogni che possiamo chiamare sul futuro e sono pensate un po' sono i sogni ricorrenti i sogni ricorrenti sono ricorrenti perché ci vogliono far vedere qualcosa che accadrà se noi non interveniamo quindi quando si presenta sempre lo stesso sogno nella stessa modalità quasi sempre uguale è perché viene battuto un chiodo in modo che noi ci facciamo delle domande perché da questo fatto da quello che si svolge nel sogno dal significato che il sogno può avere per noi potrebbe cambiare la nostra vita e quindi sì i sogni ricorrenti sono molto molto importanti questo l'ho sempre detto la maggior parte delle persone è successo alcune volte mi raccontano io facevo questo tipo di sogno ricorrente però poi ha smesso da solo allora quando comprendono che cosa voleva dire questo sogno guardandosi indietro pensano che effettivamente se l'avessero saputo la loro vita sarebbe stata più semplice in quel periodo quindi ecco abbiamo una bella carellata a dimostrare che i sogni bene o male parlano tutti di futuro quindi i sogni ordinari perché ci facilitano il percorso perché ci fanno già vedere sulla base delle nostre azioni dei nostri pensieri e delle nostre esperienze quali sono le possibili strade che possiamo prendere quindi è matematica alla fine se tu continui a pensare che ti ammalerai e ti vedi già in ospedale in farmacia eccetera diciamo che la direzione è quella può accadere così 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 ma se continui a pensare in questo modo accadrà ecco che il sogno magari fa vedere delle varianti in cui siamo felici perché non abbiamo più questi pensieri e quindi l'ospedale non esiste proprio più il nostro cervello mette insieme tutte le informazioni che noi gli diamo durante il giorno anche le cose di cui non siamo consapevoli anche qualcosa che abbiamo visto a cui non abbiamo dato peso anche parole che abbiamo detto sempre senza dare peso senza renderci conto che l'abbiamo fatto ma soprattutto i nostri pensieri e la nostra emozione io pensavo ero proprio convinta che sono i nostri pensieri a creare la realtà invece credo che sia proprio l'emozione a creare la realtà perché anche l'intento è un'emozione forte e anche la paura lo è e quindi prevalgono sopra al pensiero e quindi i pensieri positivi sì ma anche le emozioni le emozioni giuste quindi tipo non spaventarsi per poco non essere pessimisti eccetera eccetera queste sono alcune regole che io mi sono messa per me vediamo un attimo se c'è già Mara Maria Rosaria vediamo ciao Cinzia ciao Katia allora vediamo Mara Maria Rosaria ho sognato di aver baciato una bambina che non era mia e mi sono sentita a disagio cosa vuol dire? ecco anche questo è un sogno che ti fa vedere che c'è un rapporto da prendere in mano con te stessa perché nei sogni nella maggior parte dei sogni tutti i personaggi che ci sono che siano animali che siano a volte lo è anche il cassetto del comodino rappresentano sempre noi stessi sono delle particolarità nostre i bambini in generale in generale sto parlando ma secondo me in questo sogno sì perché la bambina non era tua quindi una bambina sconosciuta è una te stessa che tu non conosci noi lo dico sempre non sappiamo niente nessuno di noi sa niente noi pensiamo che quello che vediamo che quello che viviamo sia la realtà ma ci sono molte cose che noi non comprendiamo e di cui non ci rendiamo conto anche di noi stessi i sogni alla fine vengono fuori da una parte inconscia nostra quindi come non comprendiamo un sogno che ci viene presentato durante la notte apparentemente senza senso questo sogno è il contenuto di ciò che noi abbiamo dentro ma a cui non abbiamo accesso oppure non ci prestiamo nemmeno attenzione in questo caso una bambina che ti sei sentita a disagio e di aver baciato può essere un rifiuto di alcune parti di te stessa che non riconosci e quindi potrebbe essere qualche tuo desiderio o una vita diversa che vorresti però ormai ho quel lavoro ormai ho quella posizione non potrei mai andare a fare la danza del ventre adesso sparo a caso però sono bisogni che noi abbiamo che fanno parte di noi stessi e della nostra natura quindi laddove noi non ci esprimiamo per quella che è la nostra natura creiamo dei blocchi c'era una ragazza che sognava continuava a sognare di andare a pattinare e lei aveva pattinato sognava di fare le olimpiadi sognava di fare agonismo eccetera eccetera e aveva pattinato per molto tempo poi ha iniziato a lavorare a fare carriera e non aveva più pattinato però le mancava qualcosa nella vita sentiva che non era soddisfatta sentiva che sì va tutto bene però e ha cominciato a sognare che andava a pattinare e poi durante il giorno si diceva però mi piaceva mi piaceva molto pattinare però adesso no non potrei non mi ricordo neanche più come si fa ho dato via i pattini eccetera eccetera queste sono le scuse che noi tiriamo fuori e soprattutto banalizziamo il sogno non gli diamo attenzione ma vi assicuro che quando è tornata a pattinare allora ha capito l'importanza di quei sogni che faceva che erano ricorrenti le è bastato ricominciare a pattinare così a livello amatoriale a livello che ne so come i ciclisti vanno a correre alla domenica allo stesso modo lei ha ricominciato a pattinare ha di nuovo percepito l'emozione e la gioia che le dà pattinare e la sua vita è cambiata quindi faceva sempre le stesse cose aveva solo aggiunto quella cosa che rendeva tutto perfetto questo è l'esempio di cosa possono fare i nostri sogni non ci chiedono ovviamente miracoli perché i sogni li facciamo noi quindi sappiamo quali sono i nostri limiti e quindi non c'è problema l'impossibile non ce lo chiedono mai ombretta e si ricorda benissimo sì ombretta non ho capito però allora Manuela sogno in anticipo alcuni eventi ma il sogno ha sempre un linguaggio simbolico e lo riesco a decodificare solo quando si verifica l'evento per la sensazione che mi lega al sogno ok Manuela bisognerebbe vedere che tipo di sogni sono forse se non sono cose terribili lo scrivi così quindi credo che siano solo un ecco è quello che io avevo visto se è così se questi sogni ti fanno solo vedere che non lo so la signora è inciampata è quasi caduta addosso a una bicicletta però non si è fatta niente forse questi sogni hanno un significato per te hanno un significato per te e ti fanno vedere che tu hai la capacità di prevenire alcune cose nel senso di semplificarti la vita se solo stai attenta può darsi che sia questo poi non lo so perché detto così però tu scrivi potresti riuscire a decodificare quindi vuol dire che se riesci a decodificare potresti farlo benissimo con tutti gli altri sogni o con tutte le altre emozioni ed esperienze che vivi esperienze intendo anche andare a bere il caffè osservarti un po' intorno e vedere una scena non so di un dialogo oppure osservare il barman eccetera potrebbe essere qualsiasi cosa magari se hai voglia mi fai un esempio e vediamo ciao Elisabetta Antonella eccetera qua lei è quella che fa i sogni un po' più nutriti ciao Daniela è la terza volta che sogno mi vengono in sogno persone che mi passano a salutare e mi comunicano qualcosa inerente alle loro famiglie le stesse la mattina dopo vengo a sapere le stesse la mattina dopo vengo a sapere che nelle ore precedenti erano morte tre giorni fa di nuovo io porto le parole ai figli o parenti e loro comprendono il messaggio ecco in questo senso Antonella visto che tu vai da queste persone vuol dire che queste persone sono raggiungibili da te cioè non ti viene chiesto di andare a New York o ad Adelaide o a Firenze sono persone che sono vicine a te quindi ci vuole la persona giusta che da retta ai sogni perché crede nel potere dei sogni crede che i sogni possano dare un messaggio e ci vogliono le persone cioè che mettano insieme le persone che stanno per subire una perdita queste persone probabilmente con l'aiuto della tua comunicazione sono preparate sono preparate e quindi possono affrontare meglio la cosa se invece tu dici che l'hai sognato e le persone erano già morte allora gli si dà la conferma che esiste qualcosa di là che non si sono polverizzate si è spenta la luce non esistono più e non le vedranno mai più sanno che c'è un luogo lo chiameranno misterioso oppure non lo so ma hanno una speranza io credo che sia un po' così un po' come un po' come quando le persone che hanno subito un lutto cercano una medium questa medium riesce a metterle in contatto con questa questo caro defunto e questo caro defunto riesce a dare delle informazioni che solo loro conoscono trovano una conferma che effettivamente esiste un al di là e quindi continuano a vivere anzi di solito hanno una gioia una marcia in più sono sereni sono in pace non hanno più sensi di colpa eccetera perché di solito questi defunti portano questi di messaggi non ti preoccupare non è colpa tua oppure si scusano di qualcosa che hanno fatto e quindi si scioglie questa che può essere rabbia può essere senso di colpa può essere un dolore incolmabile eccetera i sogni premonitori sono credo qualcosa di più di più blando che comunque viene in aiuto a certe persone e certe volte può anche essere diciamo un avviso per qualcosa in modo che non accada questo sì i sogni premonitori sono solo un aiuto a tutti gli effetti e come dimostra il sogno di Antonella sono collegamenti fra persone che sono vicine quindi un inconscio collettivo che può aiutare le persone che fanno parte della stessa cerchia del vicinato del paese eccetera eccetera sono cose sembrano miracoli ma effettivamente noi siamo tutti collegati e quindi questo è possibile nel sogno come molte volte noi incontriamo le persone nel sogno il giorno dopo non si ricordano le persone non ci ricordiamo nemmeno noi ma siamo effettivamente tutti collegati e quindi tutto può succedere sì ombretta dicevo che i sogni ah sì i sogni premonitori come dice ombretta si ricordano benissimo è un po' come le esperienze particolari esperienze extrasensoriali esperienze di sogni lucidi di proiezioni astrali eccetera eccetera sono cose su cui non ci possiamo sbagliare perché sono talmente forti talmente chiare talmente vissute come se fossero reali che non abbiamo nessun dubbio dove c'è il dubbio io l'ho sempre detto e non è un'esperienza di questo tipo quindi sì e ombretta lo sa e ombretta lo sa Laura io faccio dei sogni premonitori o sogno gli stessi luoghi che si ripetono strade o case però mi sento a disagio allora Laura qui può darsi che io non lo so se tu conosci questi luoghi queste strade o queste case però quello che è più importante di tutto è l'emozione il disagio quindi bisogna vedere dove è nata questa emozione di disagio probabilmente ti fa vedere qualcosa che sta accadendo anche adesso oppure potresti andare verso un disagio non lo so però se sogni sempre questa cosa vuol dire che devi farci attenzione vuol dire che devi indagare che luoghi sono se sono luoghi sconosciuti prova a vedere a quali luoghi assomigliano prova ad associare l'emozione di disagio ad un'altra emozione uguale o simile di disagio che hai provato nella tua vita e magari delle volte succede che tutto poi si collega sì questa stradina mi ricorda questo è vero tutto è collegato e facciamo capiamo subito che cosa ci vuole dire il sogno molto spesso purtroppo noi banalizziamo i sogni pensiamo sì sono cose senza senso è inutile che io mi metta lì a pensare sono una scocciatura questi sogni perché mi fanno star male e non pensiamo minimamente che ci possa essere qualcosa che veramente ci è utile e come dico io ci tira fuori dai guai nel senso che ce li risparmia molte persone vedono ancora i sogni come banalità come cose infantili quindi che sono solo per bambini e se solo proviamo a parlare dei nostri sogni con alcune persone ci ritroviamo con un sì vabbè però andiamo avanti e quindi sì bisogna come dico io volerlo voler fare un percorso con questi sogni allora cominciare ad analizzarli o perlomeno a scriverli a vederli tutti i giorni per poi capire che effettivamente ci sono dei collegamenti durante la vita diurna ci sono delle cose a tutti i sognatori che cadono ai piedi durante la giornata quindi magari io ho fatto un sogno a un certo punto a metà della giornata mi giro e rivedo la stessa scena rivedo un oggetto un simbolo eccetera non sono separate le due realtà è solo che in una pensiamo di essere coscienti e nell'altra invece pensiamo che ci venga mostrato un film così senza senso e invece sono tutte e due inerenti sempre a noi e sempre alla nostra coscienza e quindi sì Antonella come se mi avessero individuata come con lei che può portare un messaggio a volte cosa ma a volte cose materiali sì Antonella credo che sia proprio così perché tu dai retta tu sai che cosa vuol dire cioè dai il giusto peso a questi messaggi e quindi vai a comunicare alle persone che ti sono vicine queste cose che hai visto in sogno e quindi loro credo che apprezzino anche poi quando gira la voce vengono direttamente a chiederti non è che hai sognato qualcosa per me a volte ho visto che è successo sì Simonetta ho sognato di andare a trovare nella loro casa i miei zii entrambi morti ed erano felici e sorridenti come peraltro anch'io e allora sì Simonetta questo può essere anche un sogno ordinario può essere un desiderio o la certezza visto che sono sempre state delle brave persone sono state sempre gentili con me da bambina eccetera eccetera sto facendo un esempio e non potrebbe essere diversamente non te li vedresti mai all'inferno oppure non lo so brutti sperduti che vagano senza meta sono belle persone lo rimangono anche nell'aldilà quindi può essere una tua certezza potrebbe essere un desiderio potrebbe essere qualsiasi cosa per quello io dico che l'emozione è la parte predominante la parte fondamentale in questi sogni perché scritto così potrebbe essere anche una visione manca la parte la parte emotiva è quella che ci rivela l'importanza del sogno in ogni caso può essere come dicevo prima sia un desiderio sia una certezza come qualsiasi altra cosa sì non per forza un contatto con i defunti perché come dicevo prima anche quello non ce lo possiamo negare se c'è stato sappiamo che è successo mi arrivano tanti sogni mi vengono fatte molte domande e ci sono delle persone che quando hanno determinate esperienze non me lo chiedono mi dicono io io c'ero io ho visto sono sicura che stavo vivendo questa cosa quindi la domanda non è se è vero la domanda è come è successo che cosa mi sta accadendo però c'è la certezza di aver avuto questa esperienza quindi ripeto dove c'è il dubbio e già no questo sì questo lo dico sempre allora vediamo Gabriella ad ogni modo per la difficoltà di provarlo è sempre bene scrivere i sogni e datarli grazie Gabriella perché questa è la cosa fondamentale che ci dà un percorso lineare in questo lavoro perché se io scrivo la data nei sogni e aggiungerei anche il titolo del sogno per esempio parlando adesso di l'ultimo che ho letto di Simonetta potrebbe intitolarlo gli zii felici e sorridenti quindi quando noi andiamo a cercare un sogno e ne abbiamo tanti non ci ricordiamo quando l'abbiamo fatto ma se leggiamo il titolo gli zii felici e sorridenti sappiamo che è quel sogno lì e quindi è molto più semplice abbiamo un'enciclopedia abbiamo un dizionario dei nostri simboli ovviamente il titolo lo diamo in base ai simboli quando diamo un titolo scriviamo quello che ci rimane più più impresso non lo so il bambino con la bici al contrario ci ricordiamo subito che tipo di sogno è e quindi abbiamo un registro vero e proprio del contenuto del nostro inconscio sappiamo il nostro inconscio quali simboli utilizza sappiamo nel caso di sogni premonitori o di sogni di un certo tipo dove i defunti vengono a farci visita eccetera eccetera abbiamo tutto scritto quindi possiamo anche magari notare che questa cosa ha una cadenza ciclica che ogni tre mesi io ricevo una visita da un defunto o sogno questa cosa quindi posso cominciare a pensare a farmi delle domande che cosa succede nella mia vita ogni tre mesi o che cosa è successo ogni tre mesi quando abitavo non lo so da qualche altra parte possiamo mettere insieme piano piano tutte queste cose ovviamente bisogna bisogna volerlo fare bisogna essere anche spinti a farlo e lì dentro c'è tutta la nostra vita in questi sogni Gabriella ad ogni modo per la difficoltà ah sì di scrivere i sogni Manuela sì mi risponde sogno solo eventi che riguardano la mia vita piccoli o grandi dipende da cosa deve accadere l'ultimo ad esempio ho sognato mio padre che mi versava aceto nel piatto e mio nonno che mi versava olio due giorni dopo è arrivato un dispiacere aceto da parte di mio padre con il quale non ho un buon rapporto e ho capito il sogno con l'olio il nonno mi faceva sentire la sua protezione immagino allora qui vorrei aggiungere qualcosa in questo tuo sogno Manuela tu dici sapevi cioè che arrivava un dispiacere questo sogno te l'aveva detto però già dici che non c'è un buon rapporto con tuo padre quindi non è una novità non è un caso strano che arrivi questo dispiacere diciamo piuttosto che te lo potevi aspettare ecco che questo più che un sogno premonitore lo vedo una logica conseguenza della vostra relazione dei vostri discorsi di quello che tu pensi di lui quindi magari già la tua mente stava elaborando qualcosa il sogno mette insieme tutto e te lo presenta come una conseguenza logica che poi accade qui non c'è del miracolo è come sognare che ti lascerà il fidanzato e state già litigando furiosamente almeno due volte alla settimana tirandovi i piatti non lo so adesso esagero però da lì al sognare che vi lascerete diciamo che è una logica conseguenza per la nostra coscienza per l'inconscio ecco che questi che possono sembrare sogni premonitori secondo me in realtà non lo sono fanno vedere tutte le possibilità che ci sono sarebbe bellissimo magari un sogno in cui tuo padre viene a chiederti scusa che siccome tutta una serie di spiegazioni ti ama tantissimo eccetera eccetera quello sarebbe un sogno diciamo fuori dall'ordinario che ti fa vedere un papà che non è lui ma in questo sogno dove hai diciamo preso l'ennesima delusione da parte sua non c'è nessuna novità è solo una logica conseguenza o era solo questione di tempo questo ecco ho usato il tuo sogno per fare un esempio ci sono questi sogni in cui si ti fa vedere che ovviamente non poteva andare diversamente però c'è un insegnamento perché il sogno non è che ti dà un'informazione buttata lì così forse ti fa vedere che si potrebbe migliorare qualcosa magari con l'aiuto del nonno visto che il nonno mette l'olio magari il nonno essendo suo padre potrebbe fare da tramite e potreste migliorare la vostra relazione magari ci sono parole non dette che il nonno conosce magari il nonno sa che cosa è successo adesso vado sempre per ipotesi però se il sogno presenta queste informazioni c'è sempre qualcosa che noi possiamo fare non è solo pura informazione che il sogno ci dà c'è sempre una possibilità di azioni c'è sempre una possibilità di cambiare le cose quando vediamo quando analizziamo un sogno quindi sì sono stimoli sono stimoli che possono essere molto utili a volte ok grazie grazie Emanuela allora Silvana di che cosa parlate sì anche di sogni premonitori Silvana del futuro in generale allora Rita sogna abbastanza spesso di stare con un uomo che vorrei come fidanzato lui non mi cerca è solo lo sfogo del mio desiderio del suo amore credo di sì Rita un forte desiderio poi si manifesta nel sogno anche perché in questo modo quando sogniamo quello che desideriamo in quel momento ce l'abbiamo e quindi la nostra frustrazione la nostra tristezza è è minore quindi appaghiamo un po' quello che è la nostra è il nostro desiderio quindi c'è meno sofferenza ecco che di giorno possiamo continuare a pensare al sogno e come era bello eccetera eccetera e quindi vivere meglio la giornata questo sì poi bisogna vedere la dinamica del sogno tu dici sogni di stare con questo uomo che vorresti essere il tuo fidanzato può darsi che nel sogno ci siano delle informazioni che ti fanno vedere che cosa piaceva in lui che cosa piaceva a lui di te ecco che magari non lo so adesso la sparo proprio a caso magari tu ti metti sempre i pantaloni invece in quel sogno lì avevi la gonna e lui si è innamorato pazzamente perché avevi la gonna quindi magari dici forse c'è qualcosa che dovrei cambiare da tanto tempo ma non ho mai voluto cambiare e magari questa cosa mi farebbe bene me lo farebbe conquistare eccetera eccetera possono esserci una miriade di consigli che il sogno ha da darti non si ferma soltanto all'appagamento di un desiderio quindi si potrebbe essere anche utile in quel senso non solo come espressione di desiderio potrebbe essere potrebbe contenere anche delle informazioni quindi dovresti analizzare bene che cosa la scena come si svolgeva quali parole quali avvenimenti azioni eccetera emozioni e vedere se lì c'era qualcosa che potresti fare perché a volte non sono le persone a non volerci ma a volte siamo noi che facciamo di tutto perché le persone non ci vogliano e questo accade inconsciamente perché inconsciamente abbiamo paura e se poi non mi fa più uscire con le amiche al mercoledì sera e se poi non posso più mettermi la mia minigonna preferita adesso parlo per assurdo ma quando ci avviciniamo a un cambiamento come un fidanzamento è un cambiamento notevole pensiamo alle cose bellissime che poi accadranno ma iniziamo subito a pensare come autodifesa a cosa potrebbe toglierci ecco queste sono Silvana tutte no Silvana ho perso il sogno sono comunque tutte possibilità da valutare in un sogno questo sì e sicuramente per quanto sono fantasiosi e per quanto siano bizzarre nell'utilizzo di simbologie di azioni strane sicuramente troviamo sempre qualche consiglio molto molto prezioso per noi che ci potrebbe anche cambiare la vita sì allora Rita era sì ecco grazie Rita ciao Elga ciao quanto tempo è vero ciao bentornata allora Manuela dice sì giusto probabilmente molti sogni sono un'elaborazione o stimoli l'ho interpretato come premonitore perché era un anno che non avevo notizie ed è arrivato proprio dopo il sogno il nonno purtroppo il nonno purtroppo è nell'oltre ok Manuela sì potrebbe anche darsi non è detto che perché il nonno è nell'oltre non ci possa essere magari è l'unico legame che avete in comune quindi tu lo amavi altrettanto quanto lo amava lui questo non lo so comunque quello che ho detto prima rispetto a tutti i simboli e le dinamiche che ci sono nel sogno sicuramente c'è qualche suggerimento anche anche in questo anche in questo Silvana mi trovo spesso a sognare di viaggiare in auto con persone diverse e in percorsi piuttosto difficili senza una meta precisa ma con varie difficoltà l'auto è il mezzo che più sogno ma con grande disagio o pericoli bene Silvana l'auto rappresenta ciò che noi stiamo vivendo in questo periodo allora faccio la famiglia dei simboli più importanti la casa qualunque casa noi vediamo nel sogno rispecchia noi stessi quindi una casa sconosciuta con tante stanze a casa dei miei eccetera eccetera e siamo sempre noi quindi tutto quello che c'è nella casa o che accade nella casa accade dentro di noi sta accadendo dentro di noi la macchina è la stessa cosa però nel momento attuale è un po' come dire io ho un determinato lavoro e ho questa macchina quindi io ho vissuto questo periodo con questa macchina qui quando io sogno quella macchina lì rappresenta questo mio periodo che sto trascorrendo che sto vivendo quindi l'automobile è quella che ci fa percorrere la strada possiamo anche sognare io faccio sempre questo esempio che stiamo guidando una Ferrari quindi è un momento in cui in sogno abbiamo una grande autostima le cose vanno a gonfie vele ci sentiamo imbattibili ci sentiamo coi superpoteri e quindi abbiamo questa bellissima macchina oppure possiamo sognare che abbiamo una macchina sgangherata che non funziona eccetera eccetera allora questo rappresenta come ci sentiamo nel tuo caso Silvana se queste macchine vanno e incontrano un sacco di difficoltà tu prendi la macchina e scrivici sopra Silvana questa è la tua vita in questo momento quindi ci sono difficoltà devi andare però non riesci succede sempre qualcosa non funziona non riesco a ingranare prendo una lavata di testa dal capo eccetera eccetera oppure a mio marito non gliene va mai bene una e cosa devo fare eccetera eccetera il sogno ti sta dicendo questo quindi se tu al sogno metti il tuo nome alla macchina e dici invece di dire la macchina sta andando di qua sta andando di là cade si rompe foro una gomma eccetera eccetera se tu dici Silvana fa questo allora poi cerchi di paragonarlo alla tua vita nel momento attuale e sicuramente qualcosa ci trovi anche perché mi dici che ti trovi spesso a sognare di viaggiare in auto con persone diverse in percorsi piuttosto difficili quindi si cerca di fare una panoramica in questo periodo o un periodo a lungo termine da quando fai questi sogni qua se ci sono effettivamente queste difficoltà che tu vivi e perché perché nel sogno ci sono anche delle persone e quindi può darsi che ci siano delle dinamiche diverse a seconda del momento quindi a volte non funziona qualcosa al lavoro a volte non funziona qualcosa non lo so con i figli eccetera eccetera lì devi indagare indagare Silvana monni io ho sognato quello che stiamo vivendo poco prima che accadesse ho visto furgoni militari tanti accampamenti militari persone malate distese sul letto un attimo che ho perso ah è lungo allora distese sul letto amici che si rivelano nemici che facevano iniezioni a chi sfuggiva poi ho sognato nel 2010 mio padre mentre moriva nell'esatto momento in cui succedeva come accadeva ho visto un'ombra portarlo via mentre stava al pc mi ricordo sempre i sogni anche quelli passati fatti da piccina e spesso vedo nei sogni i miei cari defunti mi ricordo dei sogni colori profumi dettagli e spesso faccio lo stesso sogno con più dettaglio o ne continuo altri allora monni sì non sei l'unica in questo periodo diciamo da un anno a questa parte a fare questo tipo di sogni perché rappresentano anche le nostre paure o come dicevo prima alcune delle possibilità che si potrebbero verificare e quindi sì già in un gruppo onirico un anno fa c'erano già sogni di questo tipo come ci sono anche sogni di alieni che arrivano e che danno il loro contributo a questa situazione eccetera eccetera questo quindi potrebbe rispecchiare già che parlavo di fisica quantistica inconscio collettivo potrebbe rappresentare la vibrazione proprio mondiale mondiale non solo delle persone che abbiamo vicino ma sono le varianti le possibilità che sono un po' nelle energie nei pensieri di tutti quindi questo sogno lo vedo molto vicino ai sogni di molti molti altri il fatto che hai sognato il padre mentre moriva nell'esatto momento in cui succedeva come accadeva può essere però può anche essere delle volte che noi accompagniamo questi eventi perché li stiamo anche vivendo quindi non voglio assolutamente banalizzare io parlo anche per far capire agli altri e perché non so mancano alcune alcune emozioni alcuni dettagli che mi farebbero capire se effettivamente c'è una dote o non c'è ma non importa sicuramente c'è solo che è per far capire anche agli altri che delle volte quando abbiamo un caro molto vicino come un genitore o volevo dire figlio ma non ci riesco magari comunque un parente che è molto ammalato e stiamo vivendo questo calvario insieme a lui e quindi è malato lo portiamo dal dottore abbiamo paura che ci lasci il dottore comincia a dirci è la situazione un po' così eccetera eccetera siamo molto energeticamente legati a questa persona e al suo destino e quindi è molto facile che noi sappiamo già a livello inconscio a livello energetico che questa persona ci sta salutando questo può essere può succedere e succede molto spesso loro stessi quando si avvicina il momento leggendo i libri di Elisabeth Kübler-Ross che accompagnava queste persone che erano malati terminali la maggior parte di loro parlava già dei genitori o dei parenti che già li stavano aspettando perché li vedevano quindi si può essere anche questo se però ti accade spesso di fare questi sogni io non metto in dubbio che possano essere anche premonitori però a volte in questi casi diciamo sono sono molto vicini a ciò che stiamo già vedendo quindi sia il primo apocalittico sia quello del papà insomma c'eri già ci sei vicino siamo vicini alla situazione che vediamo e probabilmente eri stavi accompagnando anche tu il papà ecco quindi mio padre viveva lontano e morto improvvisamente ecco allora allora sì allora succede sono sono i legami che fanno in modo che le persone ci vengono a salutare questo succede molto spesso anzi può succedere che queste persone vengano a salutare non soltanto noi ma nella stessa sera o nello stesso momento più membri della famiglia si congedano in in certi casi sì in questo caso quindi è un legame energetico è un legame profondo che ti fa ti mette in contatto a sensazione ti fa capire che sta succedendo qualcosa questo sì a volte i sogni premonitori senza dire niente monni sul sul tuo caso che sicuramente è un sogno premonitore a volte ci sono dei sogni che sono dettati dall'istinto che ci fanno capire ad istinto non sappiamo perché che succederà questa cosa e quindi questo nel sogno si manifesta sono diverse le possibilità di sognare quello che avviene la fisica quantistica ci ha mostrato oltre al fatto che siamo tutti collegati che la dimensione passato presente e futuro non sono esattamente come le vediamo noi ecco che se noi iniziamo a scomporre e mettere insieme il passato il futuro e anche le persone che abbiamo attorno le possibilità di comunicazione fra di noi e di salti temporali nel senso come le premonizioni o le visioni di vite precedenti sono infinite noi possiamo tutte queste cose abbiamo accesso a tutte queste cose anche se non ce ne rendiamo conto fatto sta che si verificano di solito e sempre quando ce ne è bisogno e se andiamo ad analizzare tutti i sogni le visioni le premonizioni hanno tutto il loro significato non sono buttate lì come uno spettacolo in tv sono lì per un motivo come ci ha dimostrato anche Antonella si accadono spesso dice Monni grazie per tutte le spiegazioni si Monni ci sono persone che hanno dei canali aperti in questo senso e quindi le emozioni filtrano arrivano molto più semplicemente vuol dire che è anche utile vuol dire che è anche utile e come il discorso per Antonella può darsi che queste cose facciano bene anche a te non per forza agli altri perché queste cose mi pare di capire queste premonizioni riguardano te e quindi probabilmente ti aiutano nella vita bene Marina sogno spesso di far fatica a camminare come se avessi i piedi pesanti ecco probabilmente accade nella realtà non riesci a fare quello che vorresti o c'è qualcosa che tu fai ma che non vorresti fare quando noi nel sogno siamo bloccati le opzioni sono due o vogliamo fare una cosa ma non ci riusciamo o stiamo facendo una cosa che non vogliamo fare e lì devi vedere tu di che cosa stiamo parlando Marina però di solito è così Emanuela scusi se approfitto della sua conoscenza e gentilezza posso chiederle se l'ospedale in sogno è un simbolo che rappresenta qualcosa come la casa e la macchina allora no come la casa e la macchina no l'ospedale semplicemente può indicare che c'è bisogno di cure come anche il medico che c'è bisogno di cure e quindi possiamo sognare l'ospedale non per forza dobbiamo andare in panico e pensare che adesso ci ammaleremo verremo ricoverati eccetera eccetera no può semplicemente significare che vorremmo che qualcuno si prendesse un po' cura di noi nel senso che la mamma mi facesse una torta a sorpresa così senza motivo senza compleanno che il mio fidanzato arrivasse con un mazzo di rose o anche con una margherita perché mi ha pensato eccetera eccetera quindi sì non è necessariamente indice di malattia o premonizione di qualcosa del genere ok forse la seconda grazie Marina ok bene allora io volevo chiarire questa cosa proprio perché molte persone mi scrivono e mi chiedono ho sognato questo oh mio dio cosa succederà cosa ho sognato adesso sono in panico eccetera certe persone proprio mi chiamano mi chiedono aiuto perché hanno fatto questi sogni quindi io mi sentivo in dovere di specificare che i sogni delle volte molto spesso a parte i casi proprio di premonizione sono i sogni ci mostrano le logiche conseguenze che possono esserci in base a come ci stiamo comportando comportando nel senso in base a tutto ai nostri pensieri alle nostre relazioni ai nostri desideri alle nostre mancanze eccetera eccetera è come dire che noi abbiamo fatto abbiamo una borsa della spesa in questo periodo e con questa borsa della spesa se c'è dentro olio aceto sale e pepe e un cappuccio di insalata non possiamo fare una pasta asciutta questo ci dice il sogno quindi ci dà le possibili varianti che possiamo mettere in atto con questi ingredienti che sono la nostra giornata il nostro periodo il nostro modo di vivere e i nostri pensieri quindi è molto molto semplice allora avevo visto Laura sono nuova l'avrai già detto noi sogniamo spessissimo l'acqua in tante situazioni mareggiate pioggia fiumi acqua che si versa sì l'acqua è un elemento molto molto ricorrente nei sogni l'acqua è viva e quindi l'acqua può simboleggiare tantissime cose perché la pioggia lava l'acqua del mare può essere tranquilla può essere in burrasca può essere in tempesta tutto questo si rapporta a quello che noi stiamo vivendo e quindi se siamo sotto la pioggia è anche un'espressione che diciamo noi mi sto lavando mi sto lavando e quindi è applicabile proprio quello però bisogna vedere anche il resto del contesto il fiume fate delle volte attenzione anche a come si utilizzano queste parole quindi il fiume lo possiamo chiamare il fiume della vita non andare controcorrente eccetera eccetera ecco che anche il fiume rappresenta il nostro cammino può rappresentare il fiume della nostra vita poi bisogna vedere il lago si dice che al lago si portano i neonati perché così piangono di meno perché il lago è sinonimo di calma il lago non ha le onde del mare quindi è quasi sempre tranquillo sì anche senza avere un dizionario dei simboli o senza andare a cercare su internet proviamo a vedere che cosa si avvicina di più o che cosa può simboleggiare per quello che noi conosciamo questo personaggio del sogno quindi che sia il lago che sia l'albero eccetera ci sono sicuramente delle intuizioni che ci possono venire in mente a me succede spesso quando mi focalizzo su un simbolo e dico ma perché proprio questo simbolo perché è quello che mi suona più strano quindi se è quello che mi suona più strano allora avrà sicuramente un significato particolare perché l'inconscio è furbo ti deve catturare l'attenzione e quindi inizio a pensare che cosa significa per me sì è molto molto semplice se lo vogliamo io faccio sempre lo stesso esempio perché ci sono dei tipi di cani di cui io ho paura e quindi i cani quelli grossi non tutti tipo il pastore tedesco ecco che se io sogno un lupo per me significa paura ma se Maria ha tre lupi cecoslovacchi li ama tantissimo ovviamente per lei il significato sarà diverso ecco che possiamo creare sempre con il diario dei sogni il nostro diario personale dei simboli quindi io so già che quando sogno il cane per me significa questo so già che quando sogno la pioggia per me significa questo facciamo un altro esempio con l'ascensore che è uscito di recente come argomento del sogno l'ascensore cosa fa ci porta su oppure ci porta da un piano all'altro se il nostro ascensore va su e giù si ferma al primo al terzo al quarto poi torna giù eccetera eccetera vuol dire che la nostra vita è abbastanza alternata e non lineare saltiamo di palo in frasca e facciamo confusione sono molto semplici i sogni se facciamo attenzione in questo modo ai simboli che ci sono e diventa anche divertente perché poi la soddisfazione di aver capito che cosa ci vuole dire è enorme e vi assicuro che non è un impegno da studente di Oxford è proprio molto semplice imparare a farlo come dico sempre bisogna volerlo bisogna volerlo sicuramente va bene allora se avete altre domande altrimenti io vi ringrazio tantissimo di avermi seguita aspetto ancora se vedo qualche domanda intanto intanto vi vi ricordo di tenere sempre un diario onirico anche se non avete un sogno di scrivere oggi non ricordo i sogni anche se solo ricordate un piccolo frammento di sogno tipo mi è passato davanti un aereo scrivete ho visto un aereo mi è passato davanti agli occhi perché date attenzione al sogno e magari la notte successiva vi ricordate più particolari del sogno di quel giorno quindi scrivete la data prima di andare a letto scrivete che cosa avete fatto molto in sintesi parrucchiera lavoro litigato col marito non lo so scrivete le cose più importanti come ho detto prima il giorno dopo scrivete i vostri sogni e vedrete che arrivano sempre di più e più ne scrivete e più più li scrivete più li ricordate più li ricordate e scrivete più diventano più hanno un senso logico quindi non è più il sogno sconfusionato ma che cosa vorrà dire cosa avrà detto diventa proprio abbastanza lineare quindi come una storia come se il vostro inconscio vi raccontasse una storia diventa molto molto più semplice da comprendere o interpretare Katia grazie carissima Daniela per la bellissima diretta grazie grazie a voi ciao Valérie ciao bene ok benissimo allora io vi ringrazio vi aspetto alla prossima diretta ringrazio Katia ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno seguito e tutti quelli che sono dietro a queste bellissime dirette in questo gruppo che veramente sta crescendo sempre di più e che offre un sacco di nuovi spunti di risveglio di evoluzione per tutti quelli che sono pronti grazie ancora grazie infinite vi auguro una buona serata e soprattutto tanti sogni ciao a tutti grazie grazie mille ciao ciao